Veniamo da quattro partite diverse che si sono sviluppate in modo diverso ma da quattro risultati utili quindi quando poi non c'entri il risultato e non porti a casa punti è sicuramente un passo indietro. Le parole di Stefano Salvi sono quelle dell'intero spogliatoio del Foggia nel K.O. di Teramo ciò che fa più male però proprio il risultato un 2-0 maturato su blackout dei singoli su tutti quello di Anelli che ha spalancato la porta K in occasione del vantaggio abruzzese. Se un giocatore sbaglia per i concetti che abbiamo l'errore singolo ci può stare normale bisogna limitarlo però se il giocatore fa il gioco squadra che chiedo per me non ci sono problemi. Marco Marchionni in versione pompiere l'allenatore rosso-nero accetta lo stop dopo i quattro risultati utili di fila maturati contro Bari, Casertana, Turris e Cavese con 10 punti ed esclude contraccolpi legati alla condizione fisica. Non credo che ci sia un calo di fisico perché la squadra fino al nuovamentesimo ha provato comunque a ricercare le situazioni che conosciamo nell'area avversaria. È normale che quando incontri una grande squadra ci sta di soffrire però insomma a mente fredda valuterò quello che abbiamo fatto, la riguarderò e capiremo poi gli errori che abbiamo fatto e cercheremo di migliorarli. Contro il Teramo Marchionni ha scelto un 3-4-2-1 senza centravanti di ruolo, il falso 9 è stato Curcio sostenuto da Rocca e D'Andrea, una scelta che non ha pagato. Così nelle ultime tre gare gli unici gol rosso-neri, tre, sono stati del numero 10 ex Vicenza e Catania. Devo lavorare, devo cercare più soluzioni per trovare la giusta situazione per trovare il gol. E per oggi ha tempo di voltare pagina con la sfida dello Zaccheria contro la Virtus Francavilla in programma domenica alle 14.30. Salvi, uno dei più esperti in organico, sa bene che il derby fa parte della serie di partite da non fallire. Il nostro obiettivo è ben chiaro, noi domenica abbiamo uno scontro diretto e quindi dobbiamo archiviare, sub come abbiamo archiviato le quattro partite dove abbiamo fatto punti, dobbiamo archiviare immediatamente questa dove non abbiamo fatti.